Il 5 febbraio sono stati sradicati quelli che erano i giochi per i bambini in Altalene, Scivoli e tutto quanto e non sono stati i cristinali dal comune. Il parco è in degrado totale, non so se lei lo conosce, se è di zona. Sì, l'ho vissuto, certo. La nonna ci portava i bambini quando erano piccoli e mi dispiace vederlo in questo stato. Il 5 febbraio sono stati tolti i giochi ai bambini di Scivoli in Altalene. Ci veniva spesso sua figlia con i bimbi? No, pure io li portavo sempre qui. E beh sì, era uno sfogo con questi bambini. Adesso dove li portiamo? Il classico Scivolo, l'Altalena, no? Sono stati tolti perché chiaramente non erano sicure. Non c'è manutenzione, quindi purtroppo non c'è nulla e l'hanno preferito come al solito, come tagliare gli alberi lì pur di curare, di prevenire, eliminano il problema, diciamo. Diciamo, dipende quello che ci vogliono fare. Se vogliono lasciare come parco pubblico da utilizzare per tutti quanti, lo devono ripristinare. Sì, i giochi erano ammalorati da parecchio tempo, quindi poi si è deciso con un colpo improvviso, anche se c'erano già state delle azioni dei comitati di quartiere del municipio, in tal senso per ripristinare la messa a no in sicurezza dei giochi. Però poi improvvisamente, senza preavviso, sono venute la ditta del comune che aveva un appalto per la rimozione di questo e di altri parchetti a rimuovere i giochi. Però ecco, diciamo che non è stato possibile interloquire con il comune. Perché tecnicamente avrebbero dovuto ripristinarli, ma questa cosa non è stata fatta? Sì, da genitore ne dico sì. Insomma, ho tre bambine, ci sono cresciute e qua ovviamente avremmo avuto piacere che fossero ripristinati. Eravamo disposti anche a fare una colletta, una raccolta fondi, ma purtroppo c'è un'avvertenza, diciamo, di proprietà piuttosto complessa. Il terreno è di proprietà dell'Ater, il comune l'ha sempre utilizzato, gli atti formali non esistono. La regione, la provincia, o la regione, non ricordo, qualche anno fa installò i giochi a sue spese cercando di rivitalizzare il gioco. Il comune comunque dà in concessione le giostrine, gli spazi per le giostrine, insomma, c'è un problema burocratico piuttosto importante. Questo parco, intanto, è una delle poche aree verdi per il quartiere, è un parco molto amato dalle mamme del quartiere. Questo è un parco che sorge su un'area sulla quale non c'è contestazione di proprietà, perché sappiamo benissimo che l'area è di proprietà dell'Ater, ma è in concessione al comune da una vita. Ogni volta che c'è una nuova amministrazione si passano anni a cercare di fare l'accordo Ater e l'amministrazione, ma al di là di questo il comune aveva preso in gestione questo giardino, per cui sono stati messi i giochi. È stato fatto un accordo al suo tempo con il giostraio che doveva custodire i giochi. Sabato, mi pare due o tre sabati fa, c'è stata un'assemblea di cittadini dentro il parco, proprio per rilevare che alcuni giochi non erano più in ordine e che andava chiesto un intervento al comune. Se non che lunedì ci si è trovati completamente smantellato il giardino, tutti i giochi sono stati tolti e non c'è stato nessuna, né a preavviso all'ente competente, in questo caso anche al municipio, ma soprattutto non c'è stata nessuna proposta di recupero, cioè di rimettere questi giochi, né di trovare una soluzione. So che se ne sta occupando la regione, cercando di mettere una pezza perché altre aree del quartiere sono state messe in ordine dalla regione. Allo Stato è questo, i genitori sono stati privati di quel giardino lì, che non ha la stessa pari di queste aree giochi sulla strada. E poi lì ci sarà creata anche una sinergia con gli anziani vicino, quando ci sono stati dei problemi. C'è una lunga storia e se non viene ripristinato il più presto ci sarà qualche problema per la giunta Raggi. Sì, effettivamente dovevano essere rimessi, non sono stati mai fatti, non è stato mai fatto, ma ho anche letto che non lo faranno mai perché non ci sono i fondi. Effettivamente era l'unico punto di aggregazione perché i miei figli, oltre a lì, li portavo ai giardini di Piazza Mazzini con la barchetta, giocavano eccetera, altri tempi perché chiaramente sono inavvicinabili quelli per obbi motivi. I giochi sono stati tolti, va bene, li vogliamo rimettere, punti interrogativi, non ci sono soldi. Ed è ingiusto perché i bambini non hanno nessun altro punto di riferimento e di aggregazione. Se un gioco fosse pericoloso sì perché mio nipote è caduto, è caduto se è fatto male perché non c'era la recinzione, c'era lo scivolo davanti, uno scivolo dall'altra parte e da una parte non c'era recinzione. Oltre a ripestire, a renderlo proprio come giardino, perché quello non è un giardino, è una cosa posticcia e abbandonata. Beh, potevano aggiustarle o sostituirle con qualcosa, i bambini vogliono giocare. Il 5 febbraio, quindi è passato più di un mese, poi magari soprattutto si potrebbe dare conto ai cittadini adesso non l'abbiamo fatto, lo faremo il giorno tale, insomma queste cose qua che sarebbero di democrazia, non so. No, parte in causa perché sono uno di quelle persone che all'epoca quando ero in circoscrizione, ero un consigliere, ha fatto in modo che quel parco venisse attrezzato e venisse ripolito prima. Di conseguenza sono stato colpito particolarmente da questa cosa e non riesco a capire come mai anche in presenza di eventuali inconvenienti di rottura non siano stati manutentati o sostituiti. Quindi è una cosa molto grave. Vabbè, non mi sembra giusto, anche perché i bambini di Rione dovevano giocare, era l'unico parco che c'era. Mui andiamo in mezzo alle macchine, nella piazza, così stanno più tranquilli. Fate qualcosa per rimettere, perché è giusto così. Grazie. 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 Grazie.